Da dove cominciamo? Un anno fa questi poliziotti e avvocati non avrebbero osato sfidarvi. E ora che cosa succede? Allora che ci proponi? È semplice di uccidere Batman. Ecco il mio biglietto. Bruce, lui è Harvey Dent. Rachel mi ha detto tutto di lei. Non proprio tutto, spero. Una volta mi hai detto che saremmo stati insieme. Dicevi sul serio? Non voglio essere la tua unica speranza in una vita normale. Tu sei Alfred, vero? Esatto, signore. Devo temere qualche ex fidanzato psicopatico? O più di quanto lei possa immaginare. Buonasera, signore e signori. Siamo gli animatori della serata. Ciao, bellezza. Sempre nervosa. Ora so cosa devo diventare per fermare uomini come lui. La notte è più buia prima dell'alba. Ve lo prometto. L'alba sta per arrivare. Pronti, partenza, via! Andiamo! Questa città merita un criminale di maggior classe. Io lo darò. No! Aspetta, e vedrai. o muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo. Avrà bisogno del bad pod, signore? In pieno giorno, Alfred. Non è molto discreto. La Lamborghini, allora. Molto più discreto. Grazie a tutti.